Una persona o un personaggio? Ve lo chiedo prima. E loro non hanno risposto in coro, una persona. Solo che una persona a volte tira e tira e un po' in scassi buone balle. Quindi la persona ti risponde, capito? Certo, certo. Quindi io i social li curo personalmente, sto lì che scrivo, rispondo, faccio, faccio battute, cose, eccetera. E non mi piace avere un social media manager, mi dà molto fastidio. Mi dà molto fastidio perché quella deve essere un'espressione del mio pensiero. E non di qualcuno che dice guarda questo orario è un po' meglio. Ma che bravuta a me. Io scrivo quello che penso. E se lo penso in quel momento, dopo due ore, non lo penso già più. E quindi è meglio che lo scrivi. Chiaramente. Beh, è un modo di usare i social sano. Mettiamola così. Ma sì, sì. Insomma, bene o male che sia, è roba vera. Insomma, se c'è qualcosa che vi piace, proviene da me. Se c'è qualcosa che vi sta antipatico, sapete che proviene comunque da me. Merito è colpa a me. Ve lo dico prima. Ed è la stessa cosa con le tue canzoni. Sei tu in tutto quello che scrivi e si vede e si sente soprattutto. Grazie, grazie. Va bene. Cosa ci canti adesso? Grazie. Grazie. Grazie.